benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio con i risultati della 26esima giornata di serie a anche se come sappiamo oggi ci saranno in campo Roma Torino e Fiorentina Lazio. Il turno è iniziato con la bella vittoria del Bologna contro il Verona mentre il Sassuolo è stato sconfitto dall'Empoli per 3 a 2 a causa di questa sconfitta Dionisi non è più l'allenatore della squadra nero-verde. Per quanto riguarda le altre sfide nelle sfide ovviamente più importanti la Juventus ha vinto col cuore in gola contro il Frosinone 3 a 2 mentre il Cagliari ha pareggiato 1 a 1 contro il Napoli. Osimene era andato in vantaggio per continuare del Napoli mentre l'Uvumbo ha salvato il Cagliari nei minuti finali. Il Lecce è stato strapazzato dall'Inter 4 a 0 mentre ieri sera il Milan ha pareggiato 1 a 1 contro l'Atalanta. Per quanto riguarda la serie B nei risultati più importanti abbiamo visto le 2 a 2 tra Cremonese e Palermo mentre la capolista Parma ha pareggiato 1 a 1 contro il Como e nelle duello tra Pisa e Venezia ha vincere stato il Venezia. Per quanto riguarda la classifica Parma 55 Venezia 48 tornato nuovamente secondo terzo posto per la Cremonese al terzo pareggio consecutivo Palermo quarto posto insieme al Como Catanzaro invece in sesta posizione ultimo ancora il Leggo che è tornato a fare un punto dopo sconfitte consecutive. Per quanto riguarda invece le altre notizie per quanto riguarda sempre il calcio Quame lascia l'ospedale e torna a casa il giocatore della Fiorentina e il risultato positivo alla malaria dal rientro in Coppa d'Africa. Il Liverpool quindi andiamo nel campo estero. Il Liverpool vince la Coppa di Lega. Chelsea battuto 1 a 0. A decidere la sfida è stato un gol di Van Gink nei tempi supplementari. Per quanto riguarda invece Elias Eli Elis il giocatore del Bordeaux è in coma farmacologico dopo un brutto incidente. Passiamo al tennis e a Rio de Janeiro Sebastian Baez il nuovo campione Navone battuto per 6-2-6-1. Jasmine Paulini invece ha vinto il torneo di Dubai sconfiggendo in finale Anna Kajashigna con il punteggio di 5-6-7-5-7-5. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego invece sono stati sconfitti al Qatar Ex-Nobo Hill Open ovvero l'ATP 250 con il punteggio di 7-6-2-6-10-8 dalla coppia formata dal britannico Jamie Murray e dal neozelandese Michael Venus. Per quanto riguarda invece Flavio Coboli ha sconfitto Constant Lestien ad Acapulco con il punteggio di 7-5-3-6-6-0. L'italiano affronterà adesso Auger Lassayen mentre per quanto riguarda l'altro italiano Matteo Arnaldi affronterà Taylor Frenz. All'ATP di Santiago delle Ciglie Francesco Passaro affronterà Pedro Martinez mentre nelle VTA di Austin Lucia Bronzetti affronterà Yafan Wang. Per quanto riguarda il motocross la stagione di motocross 2024 non ha ancora preso il via in quanto sarà il primo Gran Premio il 10 marzo in Argentina Mattia Guadagnini sarà costretto a saltare l'esordio a causa di un infortunio. Per quanto riguarda invece la Nascar quindi rimaniamo sempre con le auto Daniel Suarez vince al Photosvish di Atalanta la competizione quindi quella di Atalanta. In seconda posizione è arrivato Ryan Blaney e Kylie Busch. Per quanto riguarda invece il ciclismo nella sesta e ultima tappa della UAE Tour a convincere e a vincere la tappa e a vincere anche la classifica generale è stato Lennart van Envelt il corridore dell'Otto South della Dottor Dynasty abbattuto con il distacco per lo Bilbao della Bahrain Victorious e bene con il Declatonnage de la Mondiale. Per il ciclista belga un grande trionfo grazie anche da come si è saputo gestire negli chilometri finali di quest'ultima tappa andando a staccare tutti gli avversari con grande maestia. Clamoroso è stato il crollo di Jaylene il ciclista della White Team Eminence non è riuscito a tenere testa ai big e soprattutto è crollato nella salita finale. Andiamo sempre nell'ambito ciclistico con le altre corse il team Wismalisa Bike ha provato in tutte le maniere a vincere la corsa ovvero Long Loop Head Netschbelt e alla fine ci è riuscito infatti Jan Trachtnik è riuscito ad avere la meglio nello sprint a 2 contro Nils Polis della White Team Emirates mentre terzo posto è arrivato Wout van Aert chiude invece in nonna posizione Matteo Trentin della Tudor una bella vittoria questa per la squadra belga che sta proseguendo l'ottimo andamento realizzato nello scorso anno quando hanno vinto tutti e tre i tre grandi giri. Per quanto riguarda invece la Kroon Bruxelles Kroon la vittoria è andata Wout van Aert guardate caso sempre della Wismalisa Bike il campione belga ha battuto in volata Team Valens della White Team Emirates e Oyer Lozacano della Movistar un grande successo quindi in queste due giorni in queste prime classiche che hanno aperto così l'inizio hanno dato così l'inizio alle classiche che arriveranno nel mese di febbraio e marzo per quanto riguarda invece il basket nelle qualificazioni europee l'Italia sconfitto l'Ungheria 83 a 62 mentre per quanto riguarda l'NBA Philadelphia Milwaukee 98 a 119 Phoenix Suns Los Angeles Lakers 123 a 113 Indiana Dallas 133 a 111 Washington Wizards Cleveland Cavaliers 105 a 114 Golden State Warriors Denver Nuggets 103 a 119 New York Pelicans Chicago Bulls 106 a 114 Houston Rockets Oklahoma City Thunder 110 a 123 Atalanta Orlando Magic 109 a 92 Utah Jets contro San Antonio Spurs 128 a 109 Portland Charlotte 80 a 93 Los Angeles Clippers Sacramento 107 a 123 Passiamo al volley con i risultati della giornata della Superliga Vediamola Sir Susa Vim Perugia contro Istas Trentino vincere per 3 a 1 Cisterna a volley Rana Verona 0 a 3 Cucine Lupe Civitanova Gasales Blue Energy Piacenza 0 a 3 Pallavolo Padova Mitveromoli Monza 1 a 3 Gioiella Prisma Taranto Allianz Milano 1 a 3 Val Valsa Gruppo Modena Farm Italia Catania 3 a 1 La classifica vede adesso la Itas Trentino a 55 punti 50 punti invece per Sir Susa Vim Perugia Gasales Blue Energy Piacenza a 40 37 punti per Cucine Lupe Civitanova Rana Verona invece 36 punti 36 punti anche per la Mitvero Volley E soprattutto per Allianz Milano 27 punti per Valsa Gruppo Modena Queste vanno ai playoff Per quanto riguarda il resto della classifica Cisterna Volley a 23 punti 18 punti per Pallavolo Padova 14 invece per Gioiella Brisma Taranto Retrocede matematicamente in Serie A2 La Farm Italia Catania con 6 punti Proseguiamo sempre con la Pallavolo Con i risultati vedi dell'ottava giornata di Serie A Femminile Saviano del Bene Scandici Ondas Olivero San Bernardo 3 a 0 Igor Gorgonzola contro Megamox Onda Saviano Vallefoglia 3 a 1 Aero Italia Smi Roma contro Trasporti Persanti Casal Maggiore 3 a 1 Uibau Volley Booster Stizio contro il Libisonte Firenze 3 a 1 Wash4Green Pinerolo Allianz Veromolley Milano invece è finita per 2 a 3 Quanto riguarda ovviamente la classifica Prosecco Doc Imoco Conegliano a 60 punti Davanti a Allianz Veromolley Milano a 51 Terza posizione per Igo Gorgonzola con 50 punti Saviano del Bene Scandici 49 punti Mentre in quinta posizione a 39 punti c'è la Reola in muto a Venera Chieri 76 Non è riuscita invece l'Italia a battere il Brasile a conquistare il Beach Soccer dei Mondiali Contro i brasiliani l'Italia si è stata arresa Si è arresa purtroppo 6 a 4 Passiamo invece adesso agli sport invernali con lo sci Simone De Monedis ha chiuso il secondo posto nella gara 2 della seconda della tappa valida per la Coppa del Mondo gli ski cross a Rentman Vittoria per Yuri Dungplessis Terzo posto invece per Terence Ticanovirian Per quanto riguarda invece Federico Tommason è inforcato nella small final E viene squalificato chiudendo al settimo posto Passiamo allo sci alpino Giulia Murada è riuscita ad arrivare in terza posizione nella sprint Che chiude la tappa italiana della Coppa del Mondo appunto di sci alpinismo Nel lato conclusivo l'Azzurro è stata sconfitta soltanto dalla francese Emily Rapport E da Cecilia Ferillat Passes Per quanto riguarda invece il Super G È stato cancellato il Super G Donne a causa dell'abbondante nevicata in Val di Fassa Nel campo maschile invece lo svizzero Marco Odenath è stato al comando Nella prima manche dello slalom gigante negli Stati Uniti Precisamente nella pista di Pasalides Taoe Per quanto dietro di lui è arrivato Henrik Kristofsen e River Radmus Migliore azzurro Filippo della Vita in dodicesima posizione Il tedesco Linus Strasser è stato il vincitore sia di gara 1 che di gara 2 Nello slalom nella manche maschile dello speciale di Coppa del Mondo sempre negli Stati Uniti Dietro di lui è arrivato Clement Noel e l'austriaco Manuel Feller In gara 1 il migliore italiano è stato Tommaso Sala In gara 2 invece Alex Vinanser Per quanto riguarda invece lo snowboard Secondo posto per Maurizio Borloline Durante la Coppa del Mondo disputata Krünica in Polonia Battuto soltanto da Arvid Hauner Mikol Felicetti è stato sconfitto in semifinale dall'italiano Borlomini E dall'austriaco Alex Payer nella Final Small Quindi di conseguenza è arrivato in quarta posizione Ronald Fischnaller e Daniele Baghozza invece Si sono piazzati alla seconda e al terzo posto del gigante parallelo maschile Gara vinta da Andreas Promegger Nel salto con gli ucif femminile La Pinkenglin vince sia gara 1 che gara 2 a Insenbach Davanti a Prevec e a Jacqueline Sedribzberger Migliore azzurra Anika Fields con il ventiquattresimo posizione Nell'ambito maschile Stefan Kraft batte Riuriu Kobayashi E Peter Prevec con ventesima posizione per Alex Insam Passiamo allo slittino Felix Loch vince la sprint di Silgulda davanti a Aparajados e Glein Settima posizione per Fischnaller A Silgulde invece Andrea Wötter e Marion Obnofer Si sono giudicate la sprint e sono in questo momento i leader della classifica generale Boz e Plume vincono la sprint a coppia di Silgulda Con un terzo posto invece importante per la coppia formata da Raider e Kainzandler Scusate sempre per la pronuncia Per quanto riguarda invece lo spitzketting A Basalega di Pinay in provincia di Trento I campionati italiani assoluti delle singole distanze di spitzketting Hanno visto in campo femminile la fermazione di Laura Pedieri Che in Valata ha battuto Maibritt Wigl Mentre in terza posizione ha chiuso Veronica Luciani Nell'ambito maschile invece vittoria per Michele Malfatti Che ha staccato Riccardo Lorello Terzo posto per Andrea Giovannini Nel pattinaggio artistico invece la coppia Conti-Maci ha trionfato nella Challenge Cup Secondo posto per la coppia formata da Beccari e Guarise Per quanto riguarda la scherma Nel Fioretto e nella Coppa del Mondo che si è svolta il Cairo Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Alessio Foconi Sono stati migliori e hanno vinto la medaglia d'oro davanti al Giappone Sconfitto per 45 a 30 Per quanto riguarda invece le donne Francesca Palumbo, Arianna Enrico, Martina Favaretto, Alice Volpi Hanno chiusi nella seconda posizione dietro soltanto agli Stati Uniti Nella finale l'Italia è stata sconfitta 45 a 33 Passiamo al Rugby L'Italia ha pareggiato 13 a 13 contro la Francia nelle 6 nazioni Passiamo all'Atletica Il nome della mascota dei campionati europei di Atletica Leggera Per quanto riguarda L'Atletica Per quanto riguarda i campioni italiani dei lanci La grande attesa è stata per Desi Asakwe che ha lanciato il disco per 64 e 57 Christopher Morales Williams invece ha vinto nel 400 in indoor Vincendo così la gara ovvero la indoor championship di Fejefil con 44 e 49 A Coppuz in Germania Per quanto riguarda la ginnastica Si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica All'Atletica Grande esposizione per la cinese Yanqing Zhu Passiamo alla cricket Ai playoff della ECC Cricket World Cup Challenge League In un corso in MLS Gli azzurri che già si erano qualificati Sono stati sconfitti dal Kuwait per 216 a 86 Passiamo alla vela Il francese Philippe Del Mar del Mogli Conduce per primo alla Global Solo Challenge 2024 Che ha trovato il traguando alla Corugna Passiamo all'equitazione L'olandese Lars Kirsten Si è imposto a Gutenberg nel salto a ostacoli Finiamo la nostra rassegna sportiva con il golf Alla Magical Kenya Open È stato vinto da Darius Vandrille Secondo posto Ritroviamo invece l'inglese Jodin E al terzo posto C'è Nacho Elvira L'Italia invece è arrivata Un passo dalla decima posizione Con Lorenzo Scalise Per quanto riguarda invece Al Mexican Open Jack Knapp Riesce a vincere il torneo Battendo Sami Valikovac Con un poco Un breve scarto In terza posizione Con il punteggio invece di meno 14 Troviamo un terzetto composto da Justin Lover City Pan E dal tedesco Stefan Jagger Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto Un caro saluto Per questo Per questo 不是